Quali sono le componenti essenziali per una prestazione olimpica ottimale? Allora io credo che ci siano tre grandi parti che compongono la prestazione ottimale per un atleta. C'è la parte tecnico-tattica, che ovviamente sono i fondamentali, quindi un atleta deve saper fare bene il proprio lavoro, il proprio sport. Poi c'è una parte fisica che si è sviluppata più avanti negli anni. Oggi se tu prendi un atleta al top livello, prima di tutto è fisicamente un grande atleta, quindi è uno sportivo, perché oggi tutta la parte fisica riveste una straordinaria importanza. Se tu salti di più, se tu resisti di più, se tu corri più forte, ovviamente hai più chance di vincere la gara a seconda di quella che è la situazione, tant'è che questa viene completamente, come dire, estremizzato col discorso del doping. Però tanto è importante questa parte. E a sostenere queste due parti, se fosse un triangolo diciamo così, c'è la parte mentale. Nonostante questo sia il mio lavoro, non ritengo che la parte mentale sia più importante delle altre due, perché come percentuali sono fondamentali tutte quante, ma la parte mentale sostiene le altre due. Perché se io vado in banana mentalmente, o non sono lucido, mi è capitato tante volte di intervistare persone che hanno fatto magari delle finali olimpiche, piuttosto che delle finali mondiali, chiedere, ok, cos'è che ti ha permesso di vincere, o che ti ha causato la sconfitta in quella finale. E il 99% delle risposte aveva a che fare con, non con la parte tecnica, ho sbagliato quel colpo, tecnicamente non ero pronto, oppure la parte fisica, ero stanco, o roba del genere, ma non sono stato lucido, ho avuto paura, non sono stato freddo in quel momento lì, o dall'altra parte invece, sono stato più freddo del mio avversario, psicologicamente l'ho tenuto sotto. Quindi la parte mentale che ha a che fare con la concentrazione, l'accessione del tuo stato d'animo, l'anticipare mentalmente quello che sta succedendo, e rimanere nello stato di flusso, questa fa la grande differenza, appunto, ripeto, sostiene le altre due.